come vedete sono dovuto ritornare sull'argomento perché dal giorno che è avvenuto il fatto il 21 ottobre l'agonia si è amplificata il telefono senza fili è continuato a perseverare nei social commenti e tutto quello che ne è scaturito molta gente ancora mi attacca accusandomi di aver venduto al lutto aver riso del lutto aver raccontato fatti personali aver raccontato tutto su gruppi telegram whatsapp eccetera eccetera cose non veritiere infatti sono qui a padova oggi a girare un video in cui dovrei fare un confronto con danny tramite un diciamo un'inchiesta documentario che ho creato questo mese per spiegare tutte le bugie falsità o inesattezze che hanno incrementato questa agonia io sono disposto a chiedere scusa e a pagare per quello che ho fatto ma non intendo pagare una pena eccessiva per quello che non ho fatto per cui danny mi ha concesso dienza da lui e lo ringrazio per per essere qui e fare questo confronto ciao danny ciao grazie per l'invito niente sì ho detto è meglio se vieni qua e ne parliamo dopo che settimane su settimane e decine di storie al giorno dove parlavi di me quotidianamente sono venuto anche a sapere che a natale sarebbe uscito un video un video di di orribile ho fatto e ho detto e l'avresti dimostrato al pubblico ho detto sinceramente in questo non ci sto perché credo di essere nel giusto almeno in parte ho detto preferirei visto che devi trattare determinate cose che tu me lo possa dire in faccia senza dover fare un ulteriore video e non voglio portare nel mio canale ancora questo per quello che ho detto lo facciamo nel tuo fa almeno che io sia presente tutto qua adesso danny vedrà un video più o meno della durata di un ora e dieci in cui vedremo più o meno tutte le tue reaction almeno le parti in cui io ho trovato dei problemi iscriviti al nostro canale Ma sono mesi che mi dai Sono io sottogogna, sottodenuncia per perdere una casa? Non è vero Quindi calma, ti sento che sei sottogogna Io non sei sottogogna Non sei sottogogna, dov'è questa gogna? Sono le stesse che sto riprendendo io Le stesse minacce che sto prendendo io No, il punto è Vogliamo arrivare al punto di far terminare questo casinato No, ma hai sentito quel pezzo di là? Perché va a dormire presto che mi scrivi 3 di mattina? Lui faceva le live dalle 9 in poi di sera Fino alle 3 di notte, non sa quando arrivava Io se avessi detto quel pezzo Gli aveva dato un cazzo di pugno in faccia Oppure lui si è scandalizzato quando si è rivisto Perché quel giorno io non so che cazzo c'aveva in testa Stava abbriato perché non so che cazzo stava bevendo in quel momento Ti giuro, non era in sé Perché neanche lui si riconosce Anche perché non ricordavo quel pezzo Mi giuro, 3 giorni prima ha detto la stessa cosa Di questo cat che c'era Ma l'ha detto in una maniera totalmente diversa E rispettosa E parlava anche bene di voi E quando ha detto quella qua Ho detto perché cazzo 3 giorni dopo Dicevo una cosa convivente diversa Dopo che è successo? Potevi scrivermi Dico Danny guarda Io non so neanche che cazzo ho fatto quella sera Vengo da te Chiariamo tutto E non facciamo esplodere il casino Ok vai, allora facciamo Deve riraffreddarsi la camera Sì facciamo una pausa se vuoi Lo so mi stiate chiedendo cosa ci fa Danny E perché ride Voi vi aspettavate un altro video in realtà Perché avevo detto che sarebbe uscita un'inchiesta Qualcosa che avrebbe sbrogliato un po' la matassa Tutto quel casino che era successo Un'inchiesta da un'ora Un'ora e dieci Io ero venuto qui con l'intento di far confessare Danny Su alcune cose che non mi erano piaciute E Danny era pronto a rispondere Abbiamo iniziato a fare questo video C'era un'altra intro Alle tre Sì c'era un'altra intro Sono le nove meno un quarto E alle tre del pomeriggio abbiamo iniziato Questo fa capire comunque Che siamo insieme da sei ore C'è mio fratello Dalla parte della telecamera Che mi ha accompagnato E c'è sua moglie che dall'altra parte La mia moglie C'è Lisa Sì c'è Cherry e c'è tuo fratello Ovviamente si parlava anche di lei Quindi era giusto che ci fosse Mi sono un po' spiazzato Perché siamo partiti bene inizialmente Io ero tranquillo Tu eri un po' più agitato Giustamente Abbiamo iniziato a vedere il video Era lungo Si andava nei meandri dei ricordi Di quello che hai detto Quello che non hai detto Lui è tirato fuori i fogli Io ho tirato fuori Si batti e beccava A un certo punto Abbiamo fatto pause E abbiamo detto Ma che stiamo facendo? Cioè Loro ci hanno chiesto una pausa Ci hanno detto Vi prego fermatevi Mi siete emporti a ravi Soprattutto Danny Perché certe cose Erano pesanti Da ascoltare E ho detto Vaffanculo le telecamere Vaffanculo l'inchiesta Danny mi ha proposto Una buona uscita Di prigione Cerco di sdramatizzare Abbiamo rivisto tutto il video Senza telecamere Ok Un'ora di video Ci state delle parti Un'ora e dieci Abbiamo stato schippato Si che tu eri quello Delle cose giuste Ora Chi ha vinto Chi non ha vinto Allora non ci frega più un cazzo No vabbè Comunque non c'era Vincito io Vincito il cazzo Nel senso non è Le cose che io dicevo Che lui non diceva Non ci frega più niente Si siamo arrivati a questo Non perché siamo due persone lucide Ma perché dall'altra parte Abbiamo persone più lucide Più intelligenti Che ci hanno Fatto ragionare Ci hanno detto Quello che dovevamo sentirci dire Infatti io penso sempre Che dietro ogni grande uomo C'è una grande donna No? Che ti sa consigliare E ti fa motivare Io non ho questa donna Infatti da una parte Mi sono smarrito Questo percorso Però è un grande fratello Esatto E proprio per questo L'ho portato Niente Danny ovviamente Ha visto tutto Però c'è una parte Che io ci tenevo Che tu vedessi Che è relativa a questa cosa Avevo fatto una live Tre giorni prima Io tra l'altro Mi ero anche dimenticato Per farti capire Quanto Tante cose avessi detto Neanche mi ricordavo più Che da una parte Mi avrebbe anche diciamo Aiutato Se l'avessi tirata fuori subito Questa parte Gliel'ho fatta vedere Fatta vedere anche Alla Cherry E più o meno La versione riveduta E corretta Di come doveva essere fatto Questo Comunicato Esatto Ovviamente Ti è piaciuta quella parte Sì magari Non stanno capendo Non so se adesso La passerà La facciamo vedere Dietro ogni grande uomo C'è una grande donna E infatti io credo Che Lazzarina Abbia una potenza Della Madonna Perché c'era I momenti più brutti C'è sempre Lo so perché Quando ci ho parlato Con lui Gliel'ho letto negli occhi Vi posso dire che C'è una scena Che ho tagliato dal video Della sua intervista E questa è una cosa Che non ho mai detto a nessuno Se non a poche persone E non ve la posso raccontare Perché è un'intervista Che è stata tagliata Perché io ho fatto Delle domande Che non dovevo fare E lì ho capito Quanto Danny fosse Quanto amasse quella donna Veramente Non me l'aspettavo E non voglio spoilerare nulla Perché penso che Danny Si arrabbierebbe Se vi raccontassi cose Però voglio farvi capire Che questo è il suo vantaggio Cioè ho capito Quanto fosse umano Danny Quando sono andato Un po' oltre Con l'intervista Perché purtroppo Io non ho freni E a volte vado troppo A scavare a fondo Ma mi è servito Perché volevo vederlo Senza filtri Il Danny che ho visto io Non ve lo posso raccontare Però mi fa piacere Che questa cosa personale La sappiamo solo io e lui Per questo dico Per quanto me ne dicono Danny, Squalo Io penso che sia Una persona molto buona E umana E questa cosa Mi ha fatto molto Commuovere Devo dire Non inizialmente Poi dopo sì Praticamente ha detto La stessa cosa Questo non lo sapevo L'ho scoperto proprio oggi Ha detto la stessa cosa Sì tre giorni prima Della famosa live Della famosa live Della famosa live Quindi ha raccontato Quello che era successo In due modi diversi E io non so Giustificarmi Chi Ha detto cosa Nel senso che Da una parte Potrei dire C'è il personaggio Delirante Che ha fatto una stronzata Dall'altro c'è il personaggio La persona umana Che ha detto la cosa Come l'ha vissuta Che è la realtà Avrei voluto Che rimanesse solo quella In camera Anzi Hai voluto anche Non fare niente A sto punto Piuttosto che Farvi vedere Lo schifo Di quella line Lì In quel modo Per quanto è Lo stesso argomento Detto in due modi diversi Qua ti fa capire Come la comunicazione A volte possa fare Grossissimi danni Anche inconsapevolmente E io di questa cosa Mi tento Quindi sono venuto qui Da Danny A spiegare tutto Anche se inizialmente Dovevamo fare un'altra cosa Sono anche un po' emotivamente Colpito Perché poi Tra una scusa e l'altra Con tua moglie E con te Ho capito anche Quanto vi avesse fatto male Questa storia Ho cercato anche Di farti capire Quanto io però Avessi sofferto Per tutto questo casino Che si era creato Per una serie di Fraintendimenti Circostanze Telefono senza fili Io ci tenevo più che altro Anche a chiudere questo casino Voi riuscite Anch'io comunque Ci tenevo a chiudere Questo casino Ok Dal punto di vista Che te l'avevo già chiesto Ti ricordi Sì Ti ho detto anche io Chiudiamo perché Siamo arrivati a una quadra Ma non abbiamo trovato Ancora la soluzione Al dopo Nel senso Hanno firmato una liberatoria Ma non serve più a niente Hanno fatto dei video Che non vedrete mai Cioè non ci sarà Un diretto scatto Te lo posso assicurare A sto giro Cancellerò tutto No beh comunque Non In realtà no c'era niente Non siamo riusciti A finire Posso far vedere una parte Se vuoi piccante Del No Non scusate Non posso dire Vabbè puoi far vedere Quando abbiamo deciso Di dire stop Gli ultimi due secondi Che siamo tutti Tutti quanti agitati Ecco Più che altro Per far capire del perché Ci abbiamo messo sei ore A deciderci Di metterci qua vicino E dire chiudiamo tutto Ovviamente vogliamo chiudere Tutti i gossip Che potrebbero esserci Dietro questa storia Ma Cosa è successo Non è successo Fine A livello legale C'era stata da parte tua Un'iniziativa Accanimento legale Nei tuoi confronti Non farò partire il processo Come se nulla fosse mai successo Tanto succederà nei social Tanto succederà nella vita privata Perché come ti ho detto Il mio interesse Non è quello Di risarcimento I danni Di cose Di cose Che se ne sono sentite Tutti i conti Ma io L'ultima cosa Che volevo Sono soldi Nulla Voglio che ci sia la pace Punto Punto Abbiamo capito Che sono state dette cose In modo brutto Abbiamo capito Che sono state trattate Successivamente In modo altrettanto brutto Ok Così ci siamo messi Tutti e due Hai capito Cosa intendo dire Sono state dette Male in modo brutto All'inizio E male in modo brutto Dopo Ok Qua ce n'è uno E qua c'è l'altro Mi stai seguendo Ok Quindi è una mossa Che tutti e due Stiamo facendo Giusto Perfetto Questo è importante Quindi come i diretti Interessati Dicono Non vogliamo più Marcire Su questa cosa Perché onestamente Credo che Siamo marciti Quotidianamente No Perché con una Con una parte di testa Fai quello che devi fare Nelle Dicissitudini quotidiane Pensi al lavoro Ti muovi Fai le cose Che l'altra metà Invece continua A essere lì Giusto Credo che sia così Anche per te Diciamo che Ci siamo trovati qui Perché io ti ho stressato Tanto con le storie Instagram E alla fine tu Mi dà udienza È una comunicazione Che è mancata In questo casino E avrei voluto avere Direttamente con te Per fermarti O chiederti scusa subito Ovviamente Danny Preso dell'emotività Non aveva il dovere Neanche di rispondermi Come giusto che sia Ogni persona ferita È stato il mio modo Solito di far casino Per arrivare a te In un certo senso E alla fine Ha funzionato Si può dire Spero che non Non doverla più ripetere Questa esperienza Nel senso Se ci sarà modo Di dover parlare direttamente Non vorrei Trovarmi più Una situazione del genere Perché qualunque cosa Possa succedere in futuro Sia che puoi parlare Con mio fratello O con me Poi non ti chiedo Con un telefono Ovviamente Subito Per quello che è Una grande persona Sei fortunato Anche tu Ah sì Sì Questo video Ovviamente È una conferma Delle mie buone intenzioni Che non ci saranno Più cose negative Su di te O contro di te Nel senso Non farò più niente Che possa ledere O nuocere La tua immagine Con la tua vita privata Quindi questa È una promessa Che faccio Con Danny Quello che Vorrei Che Mi piacerebbe Forse due cose Una È che uscito da qui Questa storia Non riparte più Cioè questo sarà L'ultimo video Che vedrete sulla questione Non voglio che mi andate A rompere le balle Ma cosa è successo Non è successo Ma questo e quell'altro Non vi risponderò Non ci saranno risposte pubbliche Non voglio più Tornare sull'argomento Ne lo dirò in live Anche perché non è successo Niente realmente Sì nel senso Magari dicono Ma cosa è successo Abbiamo solo parlato tanto Abbiamo litigato Tanto Ci siamo sfogati Tanto Ci siamo aperti Tanto Ci siamo mostrati Vulnerabili Sono successe tante cose In sei ore Non vedrete mai Quella famosa inchiesta Neanche per Trecenti La cancello La cancello La cancelliamo In modo che magari Può si spunta fuori un giorno No 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 Cancelliamo tutto Ah Mi sono pentito di quello che ho detto su di te Mi sono pentito perché Le conseguenze di quel video Al di là di quello che purtroppo Abbiamo capito che il web è incontrollabile Perché sia io che te abbiamo Tu ammetto in modo molto più ampio E con minacce tangibili Non belle Quindi voglio che c'essino Tutte questo genere di cose Perché se deve prendere Quattro schiaffi Li deve prendere da me Se io devo prendere quattro schiaffi Li devo prendere da lui Perché siamo gli unici due Che non abbiamo bisogno Di essere protetti E tra l'altro Non ci siamo neanche mai Dati schiaffi All'ira di questo Quel video lì Non mi piace averlo Perché Non mi piace Vedere quel Danny lì Io non mi sono mai visto così Non voglio vedermi Né vulnerabile Né piagnucoloso Né che chiede aiuto a nessuno Né È un video che mi fa schifo E che non vedo l'ora di togliere Ok? Come te l'ho già detto Tempo fa Io Lo facciamo anche adesso Quindi quando vedranno questo video Nel mio canale Non ci sarà più In modo categorico quel video Proprio niente Tu vuoi sempre in cambio Che io cancelli quello dei scuse? Io credo che sarebbe opportuno Perché questo È l'unica cosa che vale Perché quel video là era Scusa ma Io sovrascrivo con questo Perché sennò sembra che Machino le scuse di nuovo Chiudiamo un capitolo Ma non stiamo chiedendo scusa a nessuno No però magari il pubblico si aspetta Perché dopo dicono Hai tolto un video di scuse Non voglio che mi attacchino Pensando che mi No lo stiamo dicendo adesso Quindi io posso pubblicamente Dirti scusa Per tutto quel casino che è successo? Sì Sì Assolutamente Stiamo decidendo adesso insieme Di cancellare quei due video E non li stiamo cancellando Perché ci sono state delle cose No Non c'è stata nessuna trattativa Nessuno mi ha comprato Non c'è un disinfinto Pensilo magari strano Ah no 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 Abbiamo risolto come due gentiluomini Come si confano in privato No? Sì E non era partito così No In realtà ero partito per Era uno sviluppo piacevole Credo per tutti Giusto? Meglio così Io vorrei poter Domani Cioè domani Dopo questo video Non avere più Gente che mi attacca O accusa di cose Spero che questo video Serva a placare Un po' Da parte da ambo le parti Non attaccate più Danny Perché ha fatto un video Vendetta O qualunque cosa sia Non attaccate più me Perché ho fatto O non ho fatto Qualcosa contro di te Gossip eccetera eccetera Più che altro Vorrei poter usare questo video Per difendermi Dalle persone Che magari adesso Si sono allontanate Per gogna o altro Cioè vorrei far capire Che tra me e te Non c'è più niente Per cui non ci sono più fazioni Se io dovessi commentare Una tua panca Non mi vengono a insultare Viceversa E eccetera eccetera Perché se no State lì a rialimentare qualcosa Abbiamo chiuso Senza che nessuno Abbia un guadagno Perché in realtà Il video doveva essere Totalmente diverso Ti l'avevo anche detto Che volevo fare addirittura Due video Uno quasi una prefazione L'abbiamo fatto per il mio canale Perché tu In realtà Doveva essere per il tuo canale E l'altro Comunque andiamo avanti così Non è un problema A sto punto ti potrei dire No Sul mio non mettiamo più niente Ma semplicemente perché No perché magari Rimbalzava meglio il messaggio Sì però Il problema è che non vorrei che rimbalzasse male Ok allora ti chiedo aiuto A spammare magari su una storia Instagram Il video Sì 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 lo giriamo dai Così mandiamo il messaggio un po' più Mainstream E non si torna più sulla cosa Qualunque persona Che sta collaborando con me O che ha collaborato con me Non si faccia più problemi Perché Da parte di Danny O del pubblico di Danny Non dovrebbe più esserci Mastio Questo io comunque Non l'avevo mai detto No 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 Era per chiarire Perché molti hanno capito Molto male Molti per paura di farti un torto Non vogliono più tornare con me Mi hanno quasi isolato Sì Era quello In un certo senso Che avevo chiesto Per tutti i motivi Che abbiamo affrontato Che non serve di andare a rivangare Per il quieto vivere E per essere sereni Che è importante In questo periodo Sia per me Che per te sicuramente E per tutti Essere sereni Che è l'unica cosa che mi interessa Ovvero Non dovermi svegliare Trovare cose che non ci piacciono E essere tranquilli Ok Io voglio essere tranquillo Come ho sempre detto Come spero che voglia essere anche tu Io direi che È come se non fosse mai successo niente Ok Tu ti sei già scusato Per quello che hai detto Cioè vuoi tornare indietro nel tempo Sì no Esatto È come se Demi È come se avessi visto Quella live È come se tu non avessi mai fatto una live Raccontando In quel modo un po' Altezzoso Quello che Che avessi visto O come se avessi visto solo la prima live Esatto Esatto È come se In questo arco di tempo Lo cancelliamo Non c'è mai stato niente Perché 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 Credo che sia la cosa migliore E credo che sia la cosa migliore Fortunatamente La mia vita può Trova un nuovo risvolto È tutto più positivo Lo stesso succederà da te E io direi di prendere questo colpo Per Sì 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 ho visto Non per lo stress Anche se hai aiutato Perdere quei due chiletti per la categoria Qualcuno mi ha detto Ah vedi La system è servita Per rientrare in categoria No E ti hai rimesso di dieta prima Sì Dopo Dopo il nostro incontro Dopo l'ultimo incontro nostro Questo sarà l'ultimo video Che vedrete sull'argomento Assolutamente Categorico Non ci saranno Probabilmente se non ti dispiace Farò qualche shorts Del video Di questo Sì sì di questo video Giusto per mandarli un po' più Ma soprattutto Non risponderete A nulla Che verrà detto Non ho di sicuro Qualunque commento Qualunque commento Sotto a questo video Contro di lui Offensivo Verrà eliminato Viceversa Vogliamo solo commenti positivi Non cominciate a dire Ah ma Danny si è venduto Ah Domingo si è venduto No ma anche perché non è vero Quindi è inutile chiedere Ma cos'è successo Lo dico cos'è successo Ci siamo scornati Per sei ore di fila Sei ore di fila Eravamo tutti e due esausti Tutto quello che dovevamo dirci Ce lo siamo detto Per il bene loro Ci siamo resi conto Che siamo due stupidi Ok basta Dove stavamo andando Con il video di prima Era solo un'altra fossa Perfetto Non c'è più niente Quindi non c'è da chiedere niente Cosa è successo È successo che Due coglioni Non avrete quello che volevano Non ci sarà nessun match Nessuno spettacolo Basta Ci sarà quello che vogliamo noi stavolta Non il pubblico Esatto E qui finisce il video Anche 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 Anche